ciao a tutti sono mattia bentornati sul mio canale oggi parliamo del dart xl vi avevo mostrato l'unboxing qualche tempo fa finalmente vi mostro la build completa e vi mostrerò anche tutti i collegamenti quindi per collegare un gps una fc la f722 wing di matec di cui trovate la mia recensione nel video all'interno della descrizione e poi farò una tutorial su come programmare iNAV per questo aereo qui vedete la matec f722 wing al quale ho collegato tutte le parti del zoo hd dart xl volevo mostrarvi la build qui fuori dalla fusoliera poi andrò a installare ovviamente tutto nella fusoliera vi mostrerò gli accorgimenti da prendere in quella fase però mi sembra un po più chiaro vedere i collegamenti qui fuori visto che lo spazio nella fusoliera un po ristretto o meglio c'è tutto lo spazio che vi serve ma per filmare il video è più comodo fare questo vedete qui che ho gli essi originale del kit è un 30 ampere e dagli essi escono i cavi ovviamente che vanno al motore poi questo cavetto con un jst che ci darebbe l'alimentazione per la fc quindi ci darebbe un voltaggio totale dalla lipo ma noi questo non lo utilizziamo infatti vi mostro a schermo una foto io sono andato a collegare i due terminali degli essi nell'apposito spazio per gli essi della matec e poi sono andato ad utilizzare il cavo che ho tagliato l'xt60 vedete che ho tagliato dall'isci per crearmi la mia alimentazione per la matec ed ho collegato ovviamente il positivo è positivo il negativo è negativo e questo è abbastanza lungo da arrivare sul fronte della fusoliera dove andiamo ad alloggiare la lipo poi qui in realtà gli accessori che vado a collegare alla fc non sono moltissimi abbiamo la ricevente e poi vi spiego perché ho usato questo connettore abbiamo poi il gps che è il beitan bn 220t è l'ultima versione del 220t come vtx ho usato la infinite dvr che ho recensito poco tempo fa trovate la recensione nella descrizione del video in questa vtx si può inserire una micro sd per registrare il dvr senza le scritte dell'osd e senza i disturbi della trasmissione 5.8 ghz è comunque una vtx che arriva ad un watt più che sufficiente secondo me per questa vid e qui ho utilizzato questa antenna che è una triumph tbs in realtà non sono proprio sicuro sia originale ma l'ho utilizzata anche su un drone ho visto che funziona piuttosto bene e infine abbiamo la nostra cam fpv e vedete qui il connettore della mia cam foxier vediamo ora in particolare tutte le connessioni partiamo dagli essi che come vi ho detto è collegato alla parte pdb di questa board ma poi viene anche collegato ovviamente al segnale ground per essere comandato come vedete qui ci sarebbero tre pin in fila io ho installato tutta la stecca da 6 e tolto i due pin che erano in n in realtà in n non dovrebbe essere connesso niente ma per non rischiare di andare a mettere i 5 volt dove non vanno ho rimosso il pin quindi collegando il cavo servo che viene dal isi avrò contatto solo sul ground e sul segnale in bianco quindi vado a collegare il motore numero 1 cioè l'unico motore del mio aereo sul segnale 7 poi andremo a collegare i flap ma questo lo vedrete poi quando vi mostrerò la fusoliera dell'aereo e i collegamenti all'interno della fusoliera per l'alimentazione ho tenuto i 5 volt non sono andato a cambiare il voltaggio dei servi perché con 5 volt funzionavano bene magari proverò i 6 volt ma devo capire bene se è supportato dai servi inclusi nel kit dello zoe hd poi vediamo la ricevente e vedete che ho saldato un connettore femmina servo da tre cavi e questo connettore mi permette di sfruttare la prolunga che è inclusa nel zoe hd che fa in modo che la ricevente sia montata sull'ala e che i cavi passino per il connettore dell'ala quindi senza aggiungere cavi volanti questo però implica una limitazione cioè che da quel connettore ci sono solo tre cavi cioè lo spazio di un servo e io sono andato quindi a flashare il firmware fport sulla mia r9 mm e lo possiamo fare anche perché stiamo usando una f7 quindi non abbiamo problemi di inversione del segnale e la f7 gestisce meglio il segnale fport che su f4 a me ha sempre creato qualche problema in caso ci fossero problemi con fport posso comunque ritornare al firmware classico rinunciando alla telemetria o aggiungendo un cavo che valuterò come farlo passare oppure potrò andare a portare la ricevente dall'ala alla fusoliera quindi eliminando i cavi che passano per l'ala per ora provo fport poi valuterò in questa stessa zona andiamo a montare il nostro gps e vedete che il gps ha un connettore che sarà utile per poter montare gps sulla parte superiore della fusoliera e poi andare a staccare il cavo se dobbiamo rimuovere quella parte ricollegando il cavo poi andremo di nuovo alla nostra fc e il gps è montato sulla uart numero 3 come consigliato nel manuale della matec f7 che vi invito a leggere perché è fatto veramente benissimo vediamo che il cavo verde dal beta va su tx3 e sarebbe l'rx del nostro gps poi il tx del nostro gps va su rx3 andiamo a dare i 5 volt dal pad 4 v5 mentre andiamo a prendere il ground nel pad g quindi abbiamo quattro cavi che vanno dall'fc al gps mentre qui sotto vedete per la ricevente ho dimenticato di dire che il giallo qui sarebbe il segnale che sono andato a collegare in tx2 perché sto utilizzando fport poi l'alimentazione la prendo da 4 v5 e il ground in ground il discorso dei 4 v5 l'ho spiegato nella recensione di questa board ed è che l'alimentazione viene data anche quando collegate la usb e quindi è comodo per andare a verificare le impostazioni in iNAV qui vedete che ho saldato questi connettori che erano inclusi nella confezione ed è per avere meno problemi nel collegare i cavi dei flap sono sei ne utilizzerò solo due ma nel caso mi servisse anche convertire qualcuna di queste a soft serial o aggiungere dei flap ho già il connettore pronto andiamo alla vtx e la vtx viene collegata alla riga qui sotto dove abbiamo ground 9 volt quindi 9 volt filtrati per alimentare la vtx e il segnale video la vtx accetterebbe fino a 26 volt quindi 9 volt sono diciamo nel range che funziona per la vtx ma i 5 volt non sarebbero sufficienti ad alimentarla quindi tenete presente che dovete utilizzare appunto i 9 volt dalla vtx vedete che parte anche questo cavo verde che è per smart audio e smart audio sono andato a collegarlo sulla uart 4 quindi in tx4 infine questi cavi vedete ho utilizzato il blu per il positivo perché avevo finito il rosso o meglio non avevo del rosso abbastanza lungo da raggiungere il fronte del aereo ma abbiamo quindi bianco per il segnale video che arriva dalla cam e nel pad appunto chiamato c1 per la cam numero 1 il blu è i nostri 9 volt sempre per alimentare la cam e il nero è il classico ground il tutto è saldato sul cavo standard fornito nella confezione della foxier dove abbiamo anche il cavetto qui per poter andare a cambiare impostazioni della cam e vedete giallo segnale video sul bianco rosso alimentazione sul blu e nero sul nero la cam vedrete come l'ho montata ma semplicemente ho svitato la lente fatto passare la lente attraverso il fronte dell'aereo e avvitato la lente di nuovo sulla cam in questo modo la cam è fissa sul fronte e soprattutto non ha niente che l'austruisca e che vada a limitare il vostro fov bene qui avete visto praticamente tutto sulle connessioni e ora vado a reinstallare il tutto all'interno della fusoliera e poi vi mostro come ho posizionato tutto lì dentro questa è la fusoliera del dart xl questo è lo scomparto del retro e qui andrebbero montate le ali mentre sul fronte abbiamo la parte per la lipo e le cam iniziamo da questa parte vi mostro intanto la disposizione generale dei componenti vedete che ho sfruttato il supporto originale per montare gli essi sul motore ho utilizzato la piastra in legno originale io avevo provato a stampare in pla il supporto con il condotto e la maggiore supporto per il motore ma sinceramente non mi è piaciuto come veniva orientato il motore e il fatto che l'angolo del motore non era esatto come sul supporto originale ho comunque aggiunto della colla a caldo ed ho incollato meglio la piastra se si staccherà penso che progetterò io un supporto fatto come vorrei io il problema dei supporti che si trovano su tingiverse è che sono fatti per una versione precedente di questo dart xl in cui qui c'erano due fori con delle viti che andavano a fissare il coperchio mentre qui è fatto tutto con questi magneti quindi anche le alette di rinforzo che vanno ad incastrarsi qui andrebbero a tagliare il legno e insomma ci sono alcuni problemi che mi hanno costretto ad utilizzare il supporto originale che però con l'aggiunta di un po di colla a caldo mi sembra più che resistente vedete qui che abbiamo il cavo del gps come vi ho mostrato prima nella board e il gps l'ho montato sul cover superiore e vi mostrerò dopo come ho fatto la fc è fissata con del biadesivo alla piastra in legno qui sotto e qui vedete la vtx che è montata in questa piastra che ho stampato con la stampante 3d e si incastra qui e poi diventa anche più fisso come incastro quando montate le ali perché vanno a restringere un po vedete che la vtx è collegata come vi ho mostrato prima e la posizione qui superiore vi dà la possibilità di collegare l'antenna al coperchio sempre in una posizione che secondo me va più che bene andiamo poi a vedere qui i cavi servo e vedete che ho un cavo servo che va sulla ricevente e la ricevente è montata sull'ala poi vi mostrerò come l'ho montata poi abbiamo i due cavi servo che vanno nell'ingresso servo 1 e servo 2 per le due ali in particolare l'ala di sinistra l'ho montata sul servo numero 1 mentre l'ala di destra sul servo numero 2 al contrario rispetto alla numerazione della board qui ho raccolto alcuni cavi in avanzo e poi vedete il cavo dell'alimentazione che va verso il fronte dove montiamo l'alipo altri cavi che partono questi blu bianco e nero sono quei della cam e vedete che qui c'è uno scavo in cui ho inserito i cavi e poi ho ricoperto tutto con del nastro isolante per metterli in modo più sicuro e vedete qui la cam la mia foxier file core sono andato a svitare la lente ho passato la cam nello spazio apposito e poi ho riavvitato la lente da davanti vedete qui la lente che è a filo con la piastra frontale quindi avete visto che tutti gli spazi sono già ben predisposti per installare tutto ora vediamo l'ala dove ho installato la ricevente e la copertura qui sopra dove ho montato l'antenna per il segnale video e il gps questa è l'ala e vedete l'antenna della r9 che spunta e sarebbe l'antenna stile immortal t se andiamo a ruotare vedete che ho usato le canaline predisposte per passare il cavo e sono andato a collegarmi con il cavo servo a questo connettore che permette di andare a staccare e riattaccare l'ala con il servo e la ricevente collegati all'ala e senza andare a riaprire il centro dell'aereo rende un po più veloce l'assemblaggio e disassemblaggio per il trasporto qui invece vedete una cover che ho stampato sempre con la stampante 3d in pla le stampe 3d non sono necessarie però rendono la build un po più pulita più bella se vado a rimuoverla vedete la ricevente con l'antenna che si incastra su questa piastra ricevente eccola qua e questo foro che ho praticato con una punta da trapano mi raccomando il foro fatelo a mano perché se utilizzate il trapano rischiate di scaldare e fondere le pipi infine la cover superiore vedete che ho un'antenna tbs triumph montata qui sopra e per montarla non ho fatto altro che praticare un foro dove ho fatto passare il connettore sma e poi avvitando sopra si potrebbe mettere una rondella per riuscire ad avere una superficie maggiore ma in realtà l'antenna non si muove e comunque in un crash è il minimo come problema questo perché comunque andrei a toccare prima con le alette e vedete poi qui il mio gps che è fissato con le nostre isolante molti vanno a montare il gps fuori dall'aereo per una ricezione migliore sinceramente non ho visto grosse differenze quindi io per una questione sia estetica che di comodità ho montato internamente il fix del gps avviene comunque nei tempi classici e non vedo un motivo per andare a tagliare qualche parte per spostarlo sia l'antenna che il gps hanno il loro connettore quindi potete smontarli e togliere la cover senza grossi problemi quando volete rimontare la cover sul modello non dovete fare altro che andare a collegare il cavetto del gps e l'antenna mmcx e poi chiudere senza problemi vedete che dalla feritoia qui riuscite ad intravedere la vtx e questo è molto importante perché vuol dire che la vtx avrà un buon flusso d'aria che andrà a raffreddarla e mantenerla in temperatura corretta per erogare il massimo della sua potenza quindi il watt di potenza in uscita ora spero di riuscire a mostrarvi presto un video di come vola questo aereo e soprattutto arriverà prestissimo la guida ad inav che in realtà è abbastanza semplice da collegare con il seno di poi l'unica cosa che probabilmente cambierei come componentistica è l'ISI l'ISI della Zoe HD non è proprio dei migliori non a livello di prestazioni ma perché non è un ISI programmabile con BL-heli e quindi è un po' scomodo da modificare soprattutto per attivare l'active braking che è necessario sugli aerei ho trovato il modo di configurarlo utilizzando le FC e ve lo mostrerò ma è comunque un po' una noia e soprattutto vorrei un ISI che arriva a 6S per avere ancora più autonomia ed utilizzare magari un pacco 6S lithium ion che potrebbe essere interessante come prova ho anche in realtà delle ion da utilizzare per fare un pacco 4S 2P da utilizzare quindi su quest'aereo il peso è simile a quello di una 3500 mAh 4S però abbiamo una capienza che in teoria dovrebbe essere vicina ai 6000 mAh la parte fisica della build quindi è completa spero che il video sia stato chiaro ma se avete dei dubbi come sempre vi risponderò nei commenti al video trovate tutti i link alle parti nella descrizione del video e trovate anche il link per iscrivervi al canale telegram dove segnalo varie offerte e alla pagina facebook dove ripropongo sempre le offerte di telegram spero che il video vi sia stato d'aiuto se lo è stato iscrivetevi al canale lasciate un mi piace e cliccate sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video grazie per attenzione ciao